Carissimi cittadini, continuano ad arrivarmi tonnellate di vostre foto, segnalazioni, giorno e notte, su rifiuti non raccolti, sporcizi, appuzzi incredibili nelle strade e così via, cassonetti strabordanti a Marina, a Principina, a Grosseto. Io voglio dirvi questo. È certamente giusto che un sindaco sia a conoscenza di queste cose e ci mancherebbe altro che non lo fosse. Però vorrei dirvi con la massima franchezza. Non è al Comune che dovete rivolgervi. Il campanello giusto a cui suonare non è quello del Comune, ma è quello con la scritta «Sei Toscana, gestore privato nato dalla sciagurata spartizione del territorio in macro aree e ato, voluta dal 2013 dalla sinistra». Questi sono i risultati del papuramento e del potenziamento dei sindaci che sono sotto gli occhi di tutti. sgomberiamo il campo. Il Comune non è l'ente che eroga il servizio di raccolta dei rifiuti, né pertanto ne può essere ritenuto responsabile. Di fronte alle segnalazioni che ci inviate e che ci danno comunque un quadro chiaro della criticità, non possiamo pertanto agire direttamente, in quanto non siamo noi i responsabili dell'erogazione del servizio. Ciò che facciamo, lo suggerisco anche a voi, e facciamo proprio come voi, è girare in tempo reale la segnalazione assai toscana, come dei cittadini qualunque, nella speranza di una soluzione tempestiva che a volte arriva e a volte no. Vi do alcuni dati. Nel corso degli anni non sono mai mancate da parte dei cittadini segnalazioni riguardanti l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, indirizzate al Comune e quindi comportamenti incivili anche dei singoli, o di servizi riguardanti la raccolta rifiuti messa in atto dal gestore privato, quindi attribuendo le responsabilità a sé toscana. Dallo scorso gennaio, con nostra grande preoccupazione e stupore, queste segnalazioni si sono addirittura triplicate. Giorno e notte, tempestati siamo. Grazie alle attività di verifica dei nostri ispettori ambientali. A maggio è emerso che il gestore, cioè Sé Toscana, ad esempio in tema di spazzamento strade, ha prestato un servizio diminuito del 30% rispetto a quanto avrebbe invece dovuto garantire e a quanto tutti voi avete pagato. Avete pagato per avere 100 e avete avuto 70. Una percentuale preoccupante, che rega anche un sensibile danno di immagine al comune, perché per l'appunto l'immagine per il cittadino e per tutti voi è quella del comune, non quella del gestore, erroneamente. Abbiamo informato il gestore e avviato anche una serie di controlli congiunti che hanno dato risultati ancora più critici, anche dal punto di vista dello stato manutentivo di macchinari e veicoli. Sé Toscana ha vinto una gara d'appalto nel 2013, ma tutt'oggi sembra non riuscire ad ottemperare ai suoi doveri. Come comune non possiamo neanche affidare servizi specifici ad altri soggetti, perché anche se si tratta del bene della città rischeremmo penali salatissime. Quindi se Sé Toscana non fa il suo servizio e non ce la fa, noi non possiamo andare da sette Toscane a dirgli fallo te, perché ci sono delle penali. Questo Stato dei fatti ci sta spingendo, proprio in queste ore, a presentare una dettagliata relazione denuncia all'ato, in cui è riportata ogni mancanza, ogni carenza di un servizio che ci è dovuto, per cui abbiamo pagato, avete pagato, ma che non ci viene garantito, che non ci viene dato, per come dovrebbe essere dato. Noi continueremo quindi a vigilare e inoltrare al gestore tutte le segnalazioni e le richieste di risarcimento che ci giungono, riservandoci di compiere ogni azione in tutela del territorio. Abbiamo sempre dimostrato grande apertura al dialogo e al confronto, spendendo anni per cercare una collaborazione, ma evidentemente o non ci si fa o proprio purtroppo non c'è volontà di risolvere il problema. È chiaro però che a questo punto noi non possiamo più permettere che il decoro delle strade, l'immagine della città, dell'amministrazione, del sindaco, della sua giunta, del comune, vengono messe a rischio a causa di disservizi di cui, ripeto per l'ennesima volta, non siamo responsabili. Agiremo con decisione, quindi, e concludo, a difesa del territorio affinché vengano chiarite tutte le responsabilità. Vi esorto, cari cittadini, a prendere carta e penna e a parlare con Sei Toscana e a lamentarvi con Sei Toscana e dei servizi erogati da Sei Toscana. Se trovate cassonetti strabordanti, se sentite degli odori nauseabondi, se vedete le strade sporche, perché il responsabile, ripeto e chiudo, non è il comune di Grosseto, come molti di voi pensano o ritengono che sia, ma il gestore privato Sei Toscana, a seguito dell'accelerata riforma voluta dalla sinistra, che ha creato queste macro aree nell'ottica di efficientamento dei servizi e dei prezzi, che in realtà però ha provocato questa situazione catastrofica. Mi raccomando, cari cittadini, mi raccomando, cercate di riascoltare questo mio messaggio e di capire a quale porta andare a suonare il campanello, non quella del comune di Grosseto, ma quella di Sei Toscana, il gestore privato. Grazie.